Io sono Giovanni Cicirelli, direttore dell'azienda Bioport. La nostra azienda intende partire dalle biomassa prodotte ogni giorno nei nostri aeroporti così da produrre energia elettrica pulita. Le caratteristiche del nostro progetto sono l'innovatività, la flessibilità e l'impatto ambientale. Quindi cerchiamo un investitore cosciente che punti su queste tre caratteristiche e su un guadagno annuo e cospicuo le aree dove collocheremo il nostro impianto. Abbiamo pensato di riqualificare il territorio cercando aree o abbandonate oppure sottratte alla mafia. Bene, questo è il nostro progetto. Un saluto!